Però, alla grazia di Donascimento, alla grazia di Donascimento, possiamo dire anche di Milingo, di Don Milingo, di Milingo se vuoi, però mi dispiace per i miei amici veronesi e per insomma il Brescia, è rimasto in Serie A, per la Juve quello si sapeva, quindi non c'è niente da festeggiare. Io non ho voluto, non ti ho risposto fino adesso, sei passato vicino tre volte, mentre c'è la partita, mappo lo vince l'Inter, io sono un mandingo, tu sei un corvo, tu sei un corvo, tu sei un corvo, un corvo nero, vengo dall'Africa e i miei dall'Africa, pregono sempre per i miei che sono qua, cioè i bianconeri e la Juventus, non volevo parlare, non farmi parlare, forza Juve, grande Lippi, grande Agnelli, grande Moggi, grande Metega, grande Tirano, grande la Juve, forza Juve! Brava, 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 allora, sì vorrei dire, Sebino vorrei dire una cosa, vorrei dire già, noi siamo un po' una gabbia di macchia, oggi più del solito. Sebino scusaci, è sempre così, però siamo passi. Intanto vi seguo sempre, no, volevo aggiungere una cosa, io ho vissuto una situazione analoga di quella che hanno vissuto oggi purtroppo i tifosi dell'Inter, persi uno scudetto nel 1986 contro una squadra già retrocessa in Lecce, quindi tutto ha bisogno del calcio in questo momento, meno che di polemica, io spero che adesso i tifosi dell'Inter prendano con sportività il verdetto del campo, che è stato questo purtroppo per loro, succede a tutti poi il primo corso, però quello che non accettiamo è questo clima di sospetto che si è creato intorno a questa squadra, perché, no, assolutamente, assolutamente, perché purtroppo in Italia, purtroppo in Italia non siamo ancora abituati a essere leali, ci dovremmo cominciare ad abituare. Il primo corso è stato un effetto boomerang, chi la fa l'aspetti, la vendetta è un piatto che li mangia fredda e chi è? Allora, possiamo discutere sempre, diciamo che la Juve è campione d'Italia, un secondo, meritatamente, ma c'è anche di farlo che ci hanno buttato nelle pame, Non sei corretto, fammi parlare! Sono correttissimo, ti voglio bene, non sei benissimo! Vado in un ferro col decolo! Chi ha anche il panorale! Ma pianta! Vieni qua! Vieni! Dobbiamo dargli il novantesimo minuto! Voglio bene Amorati! Ma vado con un giro! Basta! 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 Carlo Vini!